E' stato il sindaco di Pescara Carlo Masci ad inaugurare questa mattina il cantiere per la costruzione del terzo e ultimo tratto della strada Pendolo, l'importante arteria di collegamento tra l'area dell'ospedale e la zona sud di Pescara. Il nuovo asseviario della lunghezza di 180 metri unirà la Tiburtina all'altezza dell'intersezione con via Lago di Capestrano con via Salaravecchia eliminando nel contempo una condizione di degrado ambientale imperante in quel sito. Un'operazione attesa da oltre 20 anni che porterà al completamento di una infrastruttura di fondamentale importanza per la mobilità cittadina alternativa e per l'assetto e la riqualificazione urbana del distretto ovest e sud ovest di Pescara. All'incontro con i giornalisti ha partecipato anche l'assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Luigi Alboremascia. Realizziamo un altro tratto della strada Pendolo strategico di 250 metri ma che va a raccordarsi con ciò che è già esistente alle nostre spalle rispetto a un lavoro invece altrettanto importante che è in corso nella zona di San Donato. È una misura di viabilità e qui parla l'assessore alla mobilità, la viabilità importantissima per la città di Pescara. Snellisce il traffico, verrà offerta ai pescaresi come un'alternativa utilissima rispetto alla viabilità ordinaria. I tempi di completamento dell'opera? Allora quelli che partono oggi di fatto 170 giorni quindi poco più di quattro mesi, anzi cinque mesi scusate. Sono in corso anche gli altri lavori in via Rio Sparto che avranno la possibilità poi di trovare una perfetta sovrapposizione con la conclusione di quelli che iniziano oggi. Poi in realtà rimarrà un ulteriore sogno che è quello di raccordarci all'ospedale di Pescara rispetto al pronto soccorso che verrà inaugurato tra qualche settimana e insomma la Pescara del futuro inizia a delinearsi e non posso che essere soddisfatto da amministratore di lungo corso affinché ciò avvenga.